Controlli massicci da parte degli uomini della Questura nella serata di ieri nella centralissima piazza Erbe e zone limitrofe. Dopo la vicenda del giovane aggredito a bottigliate nei giorni scorsi, infatti, la Questura ha deciso di rispondere in modo più pesante per garantire a chi la sera frequenta la zona maggiore sicurezza. Numerose le persone poste a controllo e identificazione, tra cui spunta una sedicenne di origine marocchina che è stato denunciato a piede libero perché trovato in possesso di 15 grammi di hashish destinati allo spaccio. Grazie all'ausilio delle unità cinofile è stato inoltre possibile scoprire diverse dosi di stupefacenti nascoste nei banchetti di piazza Erbe. Queste erano occultate all'interno delle strutture dei banchi e pronte per essere recuperate dai clienti. I spacciatori, infatti, avevano trovato un metodo rapido e sicuro per esercitare l'attività di spaccio senza il rischio diretto di essere scoperti.